Ma si sta collegando... Dopo tanta programmazione e tanti investimenti regionali, l'aeroporto delle Marche finalmente può ripartire? Sì, riparte, è un bel segnale per la nostra economia, è un bel segnale in un momento difficile e soprattutto un'opportunità che noi dobbiamo raccogliere per rilanciare il nostro territorio e rilanciare la nostra capacità di fare turismo e anche di dare un servizio ai nostri cittadini marchigiani.